ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato alle mie disquisizioni ebbene sì una puntata delle disquisizioni caotiche dedicata alle domande e alle risposte che mi fate ho aperto mi sembra un question time momento delle domande su youtube proprio nella scheda community ho fatto un post fatemi una domanda e poi vi risponderò ho ricevuto numerose domande di solito la devo se non la vedete perché dopo un paio d'ore chiudo la tolgo la elimino la cancello perché arrivano così tante domande che non fare neppure in tempo a leggerle quindi dovete cogliere l'attimo quando succedono queste cose fare la domanda io qua le ho stampate come vecchi tempi la carta che canta e andiamo a leggere vediamo un po se c'è qualcosa che mi fa disquisire caoticamente che mi triggera leggermente che mi dà l'occasione per magari spiegare il mio pensiero a riguardo di determinate cose allora ma secondo te perché una casa storica importante e facoltosa come la Longin non produce calibri improprio come Omega amo la Longin per storia e tradizione forse anche influenzato da te lo trovo un vero peccato allora non produce calibri improprio come Omega semplicemente perché altrimenti dovrebbero poi vendere gli orologi allo stesso prezzo di Omega e andrebbero a scontrarsi in quella fascia di prezzo lì fanno parte dello stesso gruppo indi per cui devono diversificarsi chi per materiali per stile per design chi per fascia di prezzo eccetera eccetera poi non produce calibri improprio come Omega ma bisogna anche ragionare su una cosa semplicemente perché Longin utilizza calibri che sono su architettura dei vecchi ETA per la maggior parte sì tutti sono realizzati magari in esclusiva o appositamente o su richiesta per Longin ma sono tutti su architettura dei classici ETA di un tempo mentre quelli di Omega sono di design proprietario sono realizzati ex novo al giorno d'oggi non completamente in house come si dice però dovete sapere che i calibri gli orologi vengono realizzati su 5 livelli che vengono da T0 a T4 sono 5 perché T0, T1, T2, T3, T4, T5 ognuno di questi comprende una data specifica ecco la T0 per entrambi la fa ETA cioè i pezzi del calibro, le componenti del calibro, il preassemblaggio li fa ETA poi il T1 lo fa Omega se lo fa nello stabilimento di Villere che è completamente dedicato all'assemblaggio delle parti del calibro mentre il T1 per Longin lo fanno a Santi Mie proprio nella sede dove ci sono due linee che sono gestite addirittura da personale ETA all'interno ETA è proprietà del gruppo quindi possiamo anche dire che anche per Longin sono calibri in house semplicemente perché poi li hanno utilizzati in passato anche altri non significa che non fanno parte del gruppo perché poi esiste la manifattura verticale e la manifattura orizzontale cioè cosa significa? Integrazione verticale e integrazione orizzontale chi tende a utilizzare fornitori esterni si chiama orizzontale perché va a prendere il quadrante da una fabbrica esterna, il calibro da una fabbrica esterna e la cassa da una fabbrica esterna e quella verticale cioè fatto tutto in casa fatto tutto in casa può significare fatto tutto sotto lo stesso tetto ok? come mi sembra faccia zenith se non sbaglio oppure fatto verticale ma con le aziende proprie perché se io ho comprato l'azienda di quadrante ho comprato l'azienda che fa le casse ho comprato l'azienda che fa i bracciali è sempre roba mia pensate bene che il gruppo Swatch ha anche fabbriche in Italia Sesto Calende c'è un'azienda che realizza calibri e casse per i marchi superiori Longino, Mega Breguet mi sembra a questo livello qua però è sempre manifattura verticale anche se sono dislocate in altro luogo cosa significa? siamo nel 2024 non è che bisogna avere tutto dentro il recinto lì di casa altrimenti non è manifattura verticale ok? che ne pensi dei Seiko Mod? sono come degli omage o li trovi prodotti originali? e invece del brand San Martin ha qualche omage ma anche dei pezzi originali come il nuovo Gada Watch davvero bello va bene le modifiche sui Seiko sinceramente io quello che non comprendo è le modifiche sugli orologi costosi se noi prendiamo un Seiko 5 e gli vogliamo fare una modifichina un vostro che gli vogliamo fare una modifichina una volta ogni tanto l'ho fatto anch'io ho modificato un vostro ho cambiato la ghiera gli ho messo bracciale su originale ma differente va bene ci sta però più si sale con il prezzo e più io sono disposto per assurdo ad accettare le cose i punti deboli se io compro un Seiko che costa 600 euro e magari c'è la chiusura nel lamierino non mi interessa non glielo metto il bracciale costoso fatto da un'azienda esterna me lo tengo così perché Seiko l'ha fatto così è una mia idea questa per contro invece se andiamo giù sugli orologi un pochino più bassi mi ricordo che con l'Orient l'ho fatto ci ho messo il bracciale Jubilee un orologio da 150 euro ce lo posso anche mettere poi più in là del bracciale non andrei io ecco le modificazioni poi quando te parli di Seiko o come l'idea che tu intendi a quelli che li aggeggiano per farli assomigliare ai dei Rolex lì proprio veramente siamo al vomito più totale proprio veramente qual è il senso di stravolgere una cosa per farla assomigliare ad un'altra assurdo proprio assurdo poi San Martin San Martin Campanar non lo so avrà qualche omaggio ma io queste aziende non le tengo in considerazione a me non mi interessa se ha qualche omaggio ma anche dei pezzi originali posso io fare a meno di questa azienda qua ci sono altre aziende micro brand brand che fanno orologi decenti che mi piacerebbe mettere in collezione sì voglio avere quel marchio in collezione voglio avere un orologi calamai un ecco neutro per dire marchi non famosi buttarli come un EK Watch quello che ti parte un gruppo ardito che sono orologi italiani che non sono famosissimi al mondo sì io voglio un orologio di loro di quel marchio lì lo prendo voglio un Longino in collezione voglio un Longino mi compro un Longino in collezione ora voglio di uno Zenith mi compro un Zenith in collezione ora voglio di un San Martin no non mi viene proprio anche se fanno degli orologi originali con la ghiera in ceramica il vetro zaffero cosa me ne frega cosa me ne faccio di un San Martin mi prendo anzi un Vostok mi dà più soddisfazione un Vostok un Orient un Seic un Citizen un Timex da 100 euro un Vagari hai capito? mi dà più soddisfazione questi marchi qua piuttosto che un San Martin e tutti gli altri della compagnia cantante lì che fanno questi orologetti qua usa e getta marchi fungo ho acquistato da Giacomo un Zen U50 SDR Tegiment arriverà fra tre settimane vorrei sapere qualcosa di più del trattamento Tegiment ma sinceramente è anche difficile spiegare perché loro non spiegano mai cosa è questo trattamento dicono che è un trattamento di indurimento superficiale dell'acciaio però senza porvi alcuno strato sopra piuttosto è un processo chimico che lo crea quello strato lì ora io non so in soldi di cosa si tratta potrebbe essere anche semplicemente un trucco di marketing per denominare un tipo di acciaio temperato che magari è già utilizzato esiste nell'industria siderurgica però devo dire anche che ho visto dei video e delle foto di persone che cercano di graffiare questo acciaio trattato e non si graffia cioè resiste abbastanza bene quindi qualsiasi cosa sia chiamata taggiment il suo il suo lavoro lo fa hai degli orologi che in passato i tuoi parenti hanno lasciato se si li mostreresti in un video no non ce li ho non mi ha lasciato niente nessuno siamo tutti poveri in canna in realtà avevo un bisnonno che lavorava per le ferrovie dello stato faceva il ferroviere indi per cui mi hanno detto che aveva numerosi orologi anche quelli in dotazione proprio il bisnonno sarà nato nel 900 quindi stiamo a parlare del 20 del 30 quegli anni lì che dovevano essere più interessanti però siccome stiamo parlando del bisnonno poi dopo le diramazioni tra parentele diventano quasi infinite e qualcuno li ha presi qualcuno ce li ha qualcuno ce li avrà io non è che posso andare a bussare al parentado e dirgli oh gli orologi lì mi interesserebbero e subito si fanno la domanda ma allora valgono tanto allora perché te li devo dare a te se valgono tanto in realtà non è che valgono tanto in realtà è all'interesse proprio così scientifico per la gloria qual è il tuo brand tedesco preferito e quale modello di questo brand tedesco sceglieresti se dovessi fare un acquisto teutonico boh allora ce ne sono tanti cioè praticamente tutti i brand tedeschi lavorano bene cioè tutti iungans che usa calibri di fornitura nomos all'angheunzone ci può mettere dentro anche zeppelin che fanno gli orologietti però io se dovessi scegliere mule glassute per esempio c'è anche non dimentichiamo se dovessi scegliere sceglierei glassute original osin eh quindi però per glassute original sceglierei solamente il il cq nemmeno quello con il panorama date quello più semplice quello meno costoso il cq che è il diver di glassute original che chiaramente è il calibro di manufattura è un orologio che costa intorno 10.000 cioè nemmeno tanto se lo paragoniamo ai più blasonati orologi che vanno per la maggiore oppure prenderei un zin ecco anche un zin qualsiasi proprio veramente quasi prenderei più volentieri un zin che un glassute original guardate un po' cosa vi dico un il 556 mi va benissimo oppure anche un 50 la maggior parte di zin a me piacciono perché sono veramente orologi che danno l'idea di robustezza e incassano anche calibri di fornitura e sellita quindi non è che sono alta orologeria come può essere glassute original ecco questi due qua zin o glassute original con una preferenza per zin che mi piacciono di più esteticamente a me è quello che mi deve anche soddisfare averlo al polso un bello orologio capito che differenza che differenza c'è tra un traveler gmt e un office gmt io non ho ancora capito la differenza allora qual è la differenza il traveler gmt è fatto per i viaggiatori ossia qual è cosa ha di 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 particolarità ha la particolarità che te puoi regolare la lancetta delle ore in modo indipendente cioè l'orario rimane fermo la lancetta dei minuti ferma la lancetta del gmt ti ferma e ti regoli quella dell'orario e basta dell'ora cosa comporta che quando vai in un posto basta che regoli avanti la lancetta delle ore di un'ora per avere l'orario del posto mentre quella fissa ti dà l'orario di casa nell'office gmt quella che si regola singolarmente è quella gmt quella con la freccia quindi quando ti sei a casa poi hai sul sul quadrante di casa l'orario di casa e con quella freccia gmt vai a indicare il fuso orario parigi shanghai con il quale stai lavorando a che ore sono a new york metto la freccia su new york e so che a new york sono quell'ora lì e le email le mando a quell'ora lì spero di essermi spiegato bene insomma nel travel gmt si sposta in maniera indipendente la sfera ore nell'office gmt si sposta in maniera indipendente la sfera gmt quale orologio ti piace di più tra il gp laureato e i wc engineer sicuramente il gp laureato girard per ego laureato mi piace più esteticamente rispetto all'ingegner anche nuovo che non mi sembra che sia niente di particolare si quando è uscito l'ivc subito ho avuto un moto di attrazione che però si è subito spento cioè ormai gli orologi abbracciare l'integrato fatico soprattutto di un certo tipo ecco magari ai diver ancora gli do gli do ancora credito ai diver con il bracciale integrato mi garbano ecco poi c'è anche l'orologio del giorno questo qua è il bracciale integrato il longhin admiral del 1973 74 con veramente il bracciale integrato alla cassa cioè che per smontarlo bisogna bestemmiare perché hai i perni non è che lo smonti metti il cinturino qua non si mette il cinturino ecco i diver con il bracciale integrato ancora ancora riesco ad apprezzarli quelli classici gentiani proprio così come il Vacheron Constantin Overseas il Giraper Go laureato l'EVC engineer mi hanno un pochettino diciamo sfrantumato agli scatoloni poi tornerà tornerà è un po' come sempre mangiare la panna la panna la panna poi ti stufa consiglio generico per un orologio everyday per un ragazzo entro mille euro ad oggi quale casa tra le più conosciute ritieni sia più a fuoco non lo so e quale secondo te sta presentando i modelli più integranti non lo so non lo so cosa vuol dire a casa che è più a fuoco non lo so un everyday watch per un ragazzo entro i mille euro il TSO PRX da 40 mm sei giovane un bello orologio volitivo con il bracciale integrato no tanto a te ti piacerà sicuramente quel TSO PRX non sbagli Zenith Defy Skyline Skeleton cosa ne pensi e in generale cosa ne pensi degli orologi scheletrati a me piacciono ma molti intenditori li odiano o gli intenditori non lo so chi sono Zenith Defy Skyline Skeleton oh bello orologio cioè se noi prendiamo lo Zenith Defy di per sé con quel calibro lì il 3600 cosa c'è dentro si non sono mi sbaglio insomma senza la parte cronografica non me lo ricordo si viaggia a 36000 alternanze orarie ma ha la la sfera dei secondi che ti segna il decimo di secondo gira impazzita cioè fa un giro fa un giro del quadrante in 10 secondi è pesantino per la vista poi Skeleton ecco Skeleton non mi piace a me non piacciono al momento non piacciono gli orologi scheletrati che mi mostrano tutto quello che c'è sotto semplicemente per essere anche come in questo caso che c'è qualcosa da vedere cioè il calibro di pregio perché mi ricordano anche un po' gli orologi chip economici da bancarella da 100-200 euro che fanno le cinesate che ti fanno tutto l'orologio scheletrato anche se non c'è niente da scheletrare giusto per sembrare esotici quindi si va a scontrare con questa mia preconcetto che ho lo so che è un preconcetto e li vedo tutti chip anche se sono fatti bene quindi a me gli orologi scheletrati non piacciono a quando una recensione di un orologio russo presto appena è possibile vedrai che lo farò ce l'ho già in programma mi garbicchia tornare a vedere come sono fatti questi orologini russi ciao Davide cosa ne pensi dell'Omega Railmaster ottimo orologio ottimo orologio che ho sempre avuto nel mirino non mi piacciono le ultime versioni quelle che sono a catalogo adesso con il quadrante blu tipo blue jeans un po' striato no non mi piacciono niente niente poi ci sono quelli di qualche anno fa soprattutto quella che è uscito con la versione Trilogy dove c'era lo Speedmaster il Seamaster 300 e il Railmaster da 38 quella bellino però quelle che io puntavo in realtà erano quelle dei primi anni 2000 molto assomiglianti all'Omega Aquaterra dei primi anni 2000 se non che l'Aquaterra ha gli indici applicati mentre il Railmaster è senza data e ha gli indici stampati ecco quel Railmaster lì dei primi anni 2000 da 39 se non mi sbaglio c'è perché c'è anche neanche uno che è gigante a 42 è bello mi piace col calibro quassiale sembra 2500 se non sbaglio Nordkane diventerà un top brand e che ne so io le carte in regola ce l'ha perché ha il board nel quale sono presenti grandi personaggi di spicco dell'industria svizzera orologiera ha connessioni con a destra e a sinistra di marketing sta lavorando bene gli orologi sono fatti bene il costo è bello e elevato degli orologi diventerà un top brand chi vivrà vedrà io non è che sono qua per vedere nella sfera come mai i nuovi non ginko non hanno riscosso tanto successo e da dove nasce questa domanda qual è il presupposto tu parti dall'assunto che i nuovi non ginko non abbiano riscosso successo e questo non mi ha dato saperlo posso anche per dirti non è vero è come se io ti facessi una domanda come mai la juventus non ha mai vinto uno scudetto e ti mi dici ma cosa stai dicendo non è vero io ti posso dire la stessa cosa non è vero a me sembra che abbiano riscosso successo li ho visti pubblicati su instagram su facebook sui miei gruppi telegram li ho visti quindi perché non ho ottenuto tanto successo ti sbaglio ciao davide vorrei chiederti ho acquistato un longin 30 l con cassa 18 carati però la cassa risulta nazionale quindi si può affermare che non è originale oppure c'è una storia dietro a tutto questo non è che c'è una storia dietro a tutto questo era prassi comune che le casse in oro venissero poi realizzate dall'importatore nazionale per non pagare i dazi perché c'è stato un periodo nei quali si pagavano dei dazi aggiuntivi per i materiali preziosi quindi un orologio in oro era un materiale prezioso e quindi ci dovevi pagare sopra una tassa che poi ti portava a dover vendere quell'orologio oltre il prezzo di listino nel quale veniva venduto solitamente si andava contro le leggi del mercato allora ci fu un accordo con Longin e l'importatore in questo caso mettiamo italiano nel quale veniva mandato non so di preciso se solamente i componenti oppure proprio un orologio dentro la cassa in acciaio che veniva poi tolta e utilizzata e rifatta in oro però era prassi comune quindi per me ha valore cioè averne uno in collezione ci sta io ce l'ho e mi fa piacere averlo perché è marchiato binda e ha un senso storico però poi chiaramente se invece hai una cassa di quelle fatte in Svizzera marchiate con dietro il punzone e tutto dice chi ha fatto la cassa c'erano le le aziende svizzere che facevano le casse quindi ha un pochino più di valore anche storico anche morale vedere che quella cassa è stata fatta nel 1960 alle Locle per dire dalla ditta X è un po' più un po' più di valore però non è che sono dei falsi finita questa paginata qua è finita paginata finita nuovo Speedmaster First Omega in Space parere a me piace da morire è uscito appena uscito il First Omega in Space cioè l'edizione dello Speedmaster dedicato al primo orologio che andò nello spazio quello del 1962 non quello che andò solo quello che andò nello spazio che è leggermente differente anche più piccolo esisteva già qualche anno fa poi è uscita di produzione e adesso l'hanno reintrodotto e quando l'ho visto sono sobbalzato sulla sedia perché ho avuto come un moto di affetto la mia scimmietta l'ha guardato con le lacrime agli occhi e la bava la bocca l'ha scambiato per una nocciolina subito e l'ha visto e l'ha detto nocciolina e l'ho detto no, lei era nocciolina sta brava quello lì è il Fois è il nuovo e a me mi aveva sempre fermato l'acquisto del Fois perché giungeva semplicemente con il cinturino io lo volevo braccialato quindi mi ero fermato anche se poi avevo scoperto che sui forum stranieri c'era gente che aveva comprato bracciali con i finali di un altro Speedmaster con la chiusura di un altro ancora li aveva montati ci stavano era un giro pesco intorno a questi bracciali che ti andavi a spendere 900.000 euro in più per avere un bracciale raffazzonato che però ci stavano quindi avevo desistito completamente e ho anche fatto bene poi ho preso lo Speedmaster Moonwatch adesso è riuscito e lì ho detto mi ora col bracciale erano fatto col bracciale come quello che deve essere e con il calibro 3861 il cassiale manuale come ho io nello Speedmaster Moonwatch beh poi dopo mi sono ravveduto un attimino ho guardato bene e c'è sempre quella cosa che a me mi blocca cioè le sfere le sfere che sono metalliche riflettenti e che in certe condizioni proprio scompaiono completamente io quella cosa lì non ce la faccio non ce l'ho fatta con il Seamaster 300 che ho venduto alla fine non ce l'ho fatta quando dovevo scegliere tra Speedmaster Moonwatch e Speedmaster 1957 che ha quelle sfere lì questo c'ha le sfere alfa che sono differenti da quelle Dauphin però c'ha sempre quella finitura lì con all'interno tanto così di pasta luminescente e io lo so l'ho già visto dai video lo so che mi al polso non riesco a leggere l'orario a un certo punto mi confonderò anche con la sfera dei secondi cronografici che è bianca e boom si sbalza all'occhio quella e le altre scompaiono quindi io fortunatamente per me l'ho cestinato è finita anche questa qua perché era una sola altra domanda cosa ne pensi dello Speedmaster Racing 40 mm con calibro 30-30 allora hai fatto bene a specificare 30-30 perché lo Speedmaster Racing è attualmente a catalogo anche adesso su cataloghi Omega però non è quello con il calibro 30-30 che adesso non esiste più è fuori catalogo è quello brutto a me non mi piace non è mai piaciuto con quei contatori così un po' distanti con quelle finiture colori niente non mi piace proprio la cassa non mi piace niente di quell'orologio lì non lo comprerei mai il calibro 30-30 in realtà poi non è altro che un 77-53 abbastanza elaborato ETA 77-53 con la ruota a colonne e con lo scappamento coassiale quindi c'è una serie di modifiche e non è un calibro da denigrare a volte qualcuno l'ha anche fatto e anche Longini ha utilizzato questo 77-53 con ruota a colonne quello se lo sono scambiati però lo scappamento coassiale è solamente su questo qua niente se ti piace prendilo a me non mi piace Tagoyer Aquaracer 200 Professional versus Longini Spirit 37 belli tutti e due sono belli sarebbero tutti e due da avere in collezione sono entrambi calibri di fornitura no? sellita SW200 per il Tagoyer e l'L888 per lo Spirit che però forse è leggermente più pregiato perché deriva dal 2892 è una spirale libera regolazione inerziale certificato COSC a livello di calibro io preferirei leggermente quello del Longini Spirit a livello estetico sono completamente differenti uno è un diver e uno è un pilot più everyday watch è più utilizzabile ogni giorno lo Spirit piuttosto che un diver con la ghiera che in tante occasioni dove vai col diver? però sarebbero tutti e due da avere in collezione per me io ho lo Spirit non ho il Tagoyer però mi piacerebbe averlo cosa prenderesti? scelta decore fra nuovo Tudor BB58 GMT 39 mm e Omega Seamaster 300 ora cosa prenderesti? a uno che ha l'Omega Seamaster 300 e non ha io l'ho già scelto io ho l'Omega Seamaster 300 quindi ho già scelto quello ciao Davide puoi brevemente spiegare come funziona la valvola dell'elio nei divers perché molti orologi anche con un'impermeabilità garantita fino a 300 metri possono farne a meno semplicemente perché la valvola dell'elio non serve per chi fa le immersioni in acqua cioè nel momento in cui l'acqua è a contatto con l'orologio la valvola dell'elio non serve a niente se ti fai quelle cose lì non ti serve a niente la valvola dell'elio non entrerà mai in funzione la valvola per l'espulsione dell'elio di citura corretta serve esclusivamente a quelle persone che vanno a lavorare in profondità cioè vengono messi dentro un battiscafo o una campana insomma un contenitore ti siedi dentro il contenitore respiri vai giù ti calano giù in profondità e poi quando sei in profondità magari esci a saldare a fare cose a brigare perché? perché in questa campana in questo battiscafo c'è un'atmosfera con molto elio con molta percentuale di elio non chiedetemi il motivo per cui mano a mano che si scende leggermente aumenta la pressione perché cercano anche un po' di adattarla e quindi queste molecole di elio si rimpiccioliscono e passano oltre le guarnizioni di gomma entrano nell'orologio queste piccole particelle di elio ti sei giù fai tutti i tuoi bislacchi poi quando torni su in campana la pressione diminuisce e queste molecole di elio tendono a ingrandirsi una volta che si ingrandiscono poi non escono più non escono più dall'orologio perché da piccole ci entravano ma da grandi non ci escono quindi si ingrandiscono si ingrandiscono aumenta la pressione all'interno dell'orologio e ti fa fare il saltino del vetro ti parte il vetro e ti dici ma cosa è successo mi è esploso l'orologio in realtà è l'elio che ha spinto fuori per uscire quindi con questa valvolina qua si riesce a fare o manuale o automatica certi orologi c'erano automatico l'elio esce e non insomma come la valvola a pressione della pentola a pressione no? esce l'elio hai capito? oh sono due ciao Davide che ne pensi del movimento Hangzhou 9015 3 montato sul Cadiz & Diamond fake miota 9015 ecco tu dici che esiste un calibro cinese fake che viene marchiato miota in realtà è un fake io questa cosa non lo so l'ho letta anch'io su dei forum ma non non ci sono prove non non mi sembra una notizia attendibile che ci sia un falso capito? poi lo faranno anche non lo so cioè questo non cambia il mio la mia opinione su Cadiz che non è altro che un Pagani Design perché sono la stessa azienda lo sapete quindi non mi cambia niente se ci mettono il mio ota vero o il mio ota falso cioè sempre c'ho fe che sono e c'ho fe che rimangono però non credo sia vero credo sia una piccola fake news quanto si guadagna a video? questo dovresti chiederlo a tua sorella che è molto più informata di queste cose perché a domanda birichina si risponde con una risposta sbarazzina è la classica domanda curiosona per farti gli affari degli altri perché fatti gli affari tuoi le case orologiere per mantenere il fatturato nonostante ci sia un calo delle vendite continuano ad alzare i prezzi non pensi che questo a breve faccia implodere tutto visto che l'economia funziona proprio al contrario meno domanda uguale prezzi più bassi sì l'economia funziona così la curva dei prezzi è quella meno domanda e si abbassa dei prezzi però nel lungo periodo la curva è lunga non è istantanea o meglio è istantanea per certe cose per i beni per i beni di consumo di prima necessità è abbastanza istantanea guardiamo il petrolio quando durante il covid meno richiesta si abbassa subito il petrolio ma è volatile inteso come anche strumento finanziario è volatile si abbassa la richiesta sale brucia una nave sale il prezzo è molto volatile così come i beni di prima necessità mi puoi dire il pane queste cose qua ma i beni di lusso più che beni di lusso mettiamoci anche qui i beni inutili insulsi che non servono a niente non è che si infiammano e si sfiammano così vedrai che nel lungo tempo più che altro non è che si abbasseranno non aumenteranno più aumenteranno di meno un po' come l'inflazione aumenta di meno non si torna indietro con i prezzi di listino si calmeranno per un po' finché non riaumenterà la domanda per contro può valere invece per il mercato dell'usato che è un pochino più influenzato dalla domanda e dall'offerta anche lì sempre a quanto li hai pagati perché ci sono venditori che hanno comprato orologi nel periodo in quale c'era la bolla e quindi li hanno pagati tanto e non possono permettersi di vederli sotto costo andando in perdita qualcuno lo fa dice vabbè nel commercio c'è il più e c'è il meno in questo caso andiamo col meno e li vendono a prezzo di mercato rimettendoci altri preferiscono invece attendere che il prezzo di quell'orologio risalga un pochino per l'aumento dell'offerta ecco nel mercato dell'usato ha più senso questo infiammarsi e sfiammarsi dei prezzi il mercato del nuovo a listino in negozio è una cosa che richiede più tempo più che tagliano i rami se si abbassano le entrate magari licenziano qualcuno diminuiscono la produzione fai quello che ti pare a te ma i prezzi di listino in negozio non diminuiscono aumenteranno di meno altra domanda cosa dice perché no due orologi al polso ovviamente una a destra e una a sinistra ma perché no fai un po' come ti pare a me non è una cosa che mi garbicchia più di tanto anzi poi a destra mi dà fastidio ma settimana scorsa sono andato all'UOI all'Watch of Italy alla fiera c'è il mio Santos a sinistra poi l'amico Gabriele di E-K-Watch ha insistito mi ha regalato uno dei suoi orologi il E-K-Watch il Diver il 1504 me lo sono messo a destra me lo sono messo a destra perché non potevo togliermi il Santos che si sarebbe offeso e sono andato in giro per tutta la fiera con due orologi ma era un caso particolare una situazione particolare e mi dava fastidio a destra mi sembrava un corpo estraneo nei movimenti però poi ognuno fa come vuole fai un po' come vuole non sarebbe interessante per saggiare il mercato del secondo polso se si dicessero i prezzi di acquisto dei propri orologi durante le esposizioni questo è un attacco a me cioè devo dire i prezzi di orologi quando li compro se mi gira lo dico se non mi gira non lo dico se per te è più interessante per saggiare il mercato del secondo polso vai al mercato del secondo polso e ti informi cioè capito ma guarda il Breguet è proprio che faccia un orologio bello per me non ce n'è paraconsi ponzi pe fa rima no il 5157 è proprio brutto 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 non si può vedere a questi punti scelgo il Bulgari 8 finissimo tutto questo indipendentemente dalla tecnologia dei calibri dalla raffinatezza degli orologi se uno è brutto è brutto per me il Breguet è brutto è il primo Revival A3817 come mai se ne vedono così pochi è effettivamente piccolo no non è che se ne vedono pochi si vedono io li vedo la gente li acquista piacciono ha avuto successo per quanto possa avere successo uno Zenit che non è né Rolex né Omega a livello di appeal a livello tecnico è superiore ma a livello di appeal no la gente facciamo i figli con i Rolex o con gli Omega con i Zenit un po' meno quindi ha venduto è un orologio che per me è leggerissimamente piccolo a volte lo provo e dico ah no ma mi sta bene a volte dico no quindi se non sei convinto al 100% è inutile che fai un acquisto io lo Zenit è il primero ripeto aspetto che lo facciano da 40 mm quello tondo classico e in quel momento lì prima o poi succederà e da qui a 200 anni lo faranno una volta no? ciao Davide cosa ne pensi del catalogo Baltic e in particolare dell'Aquascafe Baltic lavora bene ha tutti i begli orologi fatti bene l'Aquascafe il Diver è già un po' che fuori bello è stato anche uno tra i primi col bracciale a chicchi di riso con un certo con un certo appeal retro adesso sono tutti così gli orologi non che avessero inventato qualcosa loro perché è un design classico da skin diver però tra i microbrand diciamo l'hanno fatto per primi lavorano bene a parte a volte qualche caduta di qualche calibro col micro rotore cinese però situazioni che vanno valutate bene non che sono da evitare uno valuta se vale la pena ci studia un attimo io non li ho studiati quei calibri lì col micro rotore cosa ne pensi di Frederic Costante dopo il 41 ce lo porti un iLife da 39 sul canale eh sì io lo porterei anche un iLife però avendo portati diversi non mi ricordo quanti dove come perché però poi dopo un certo punto cosa faccio copio e collo la panoramica è il testo di quello in questo perché se la cassa è quella più o meno il quadrante è quello le qualità più o meno sono quelle cambia da 41 a 39 cosa ti dico non so che farlo Frederic Costante lavora bene lavora bene fanno belli orologi riescono anche a mantenere dei prezzi tutto sommato decenti per le complicazioni che offrono decenti per il fatto che hanno dei calibri realizzati in proprio insomma hanno del know-how che poi riversa in orologi abbastanza classici no hanno sempre c'hanno anche quei bellissimi cronografi che ci piacciono tanto no lavora bene per il fede di Costante andrebbe un po' rivalutata ciao ho un polso da 22.5 sono disperato i 40 sembrano sparire oltre 40 esistono praticamente solo diver e lo speed alternative c'è una marea di orologi oltre 40 mm cosa sminchiazza stai dicendo basta che ti prendi qualsiasi iwc 42 43 il girare per il go laureato lo fanno da 42 fai pensare lo spirit lo fanno da 42 il mariso la croafa i cronografi da 43 il ponto sei da 43 cosa stai dicendo sei completamente disinformato a questo punto fai prima andare sui cataloghi delle case e guardare quelli che sono da 43 da 42 da 45 non è vero che non ci sono sei bugiato da detto questo io direi che ho finito ho detto tutto ho risposto a tutte le domande adesso qua bisogna pulire quindi prima vado a vedere i gattini su instagram e poi dopo pulisco io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica 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 musica